Melody in every single word I speak Campionato di Serie B, giornata numero 35 alle ore 20.30 in campo al Rigamonti, Brescia contro Perugia Vediamo quali potrebbero essere le scelte di Pierpaolo Bisoli In porta Rosati, difesa 4 con Delprete, Mancini, Belmonte e Spinazzola Centrocampo con Molina, Della Rocca, Rizzo e Guberti davanti Aguirre e Matteo Ardemagni Grazie a tutti